Salve a tutti e bentornati sul canale. In uno scorso video vi ho fatto vedere come costruire questa ercolina, che poi non sapevo si chiamasse ercolina, comunque questo sistema di cavi fatto in casa. Oggi vi faccio vedere come costruire praticamente gratuitamente tutti i tipi di manubri e di prese che ci possono servire. Prima di iniziare volevo farvi vedere che come carico adesso invece dello zaino sto usando per il momento queste sbarre che sono i pin di sicurezza del rack, su cui ci carico i pesi. Come potete vedere, questo grazie anche a un'idea di War Machine che saluto. Quindi senza perdere altro tempo passiamo al primo manico che è la corda, che è il più facile di tutti da fare. Questo l'avevo già fatto vedere nel primo video, basta prendere due pezzi di corda, intrecciarli tra di loro e legare la fine con delle fascette. Questa ce l'ho da un po' di anni e non mi ha mai dato problemi. Per metterla basta semplicemente fare così o ci potete attaccare un moschettone permanente e a posto. E potete fare tricipiti, bicipiti, insomma, le facebook anche. Quindi questa corda è estremamente semplice, non c'è bisogno che ve la faccio vedere passo passo come si fa. Passiamo al secondo manico che è la maniglia singola. Vi metto una foto così capite. Per cui ci servirà un pezzo di tubo cavo. Io da questo vecchio rubinetto ho segato questa parte e la utilizzerò. Voi cercate in caso in garage qualsiasi tubo cavo, va bene. Basta che sia rigido. Grazie. Altrimenti lo potete comprare in qualsiasi ferramenta per pochi centesimi di euro. Oltre questo ci servirà una corda simile o uguale a quella che abbiamo utilizzato per la garrucola. E poi il, credo si chiami, grilletto a 360 gradi. Insomma, questa parte che costa, l'ho pagata un euro in ferramenta. E come si fa? Molto semplicemente facciamo passare la corda all'interno del tubo. Adesso questa corda è molto più lunga di quella che sarà necessaria, quindi dovrò tagliarla. Poi facciamo passare l'estremità della corda all'interno di un singolo foro del grilletto. Quindi così e così. Weee! Ok. Si può già iniziare a intravedere la forma. Adesso dobbiamo solo fare un nodo per bloccare il tutto. Quindi, da questa posizione, facciamo passare questo pezzo avanti e questo pezzo indietro, in questo modo. In realtà non è, credo, necessario farlo. Comunque, dopodiché bisogna fare il nodo. In questo modo. E basta stringere. Adesso si allargerà un po'. Ah no, non si è allargato. Mannaggia. Magari è un po' troppo stretto, quindi lo allargo. Ok. Una volta che si stringe, come vedete è molto solido. Adesso tutto questo pezzo di corda in più andrà tagliato. Comunque, giusto per farvi vedere. Togliamo questa. E appoggiamo questa. E come potete vedere, è estremamente funzionale. Adesso il peso è pesante, quindi lo sto facendo con due mani. Il fatto che la corda passa in mezzo al tubo, fa sì che il tubo, mentre scendo, ruoti. Proprio come un manico vero e proprio. E questo grilletto fa in modo che io possa girare in qualsiasi direzione senza disturbare il percorso della corda nella carrucola. Adesso taglio la corda in eccesso e vi faccio vedere il risultato finale. Bene, l'ho tagliato e questo è il risultato. L'unico problema che potrebbe sorgere nel corso del tempo è il fatto che la rotazione che c'è all'interno del tubo con la corda l'andrà a consumare. Però a cambiare la corda non ci vorrà niente e sicuramente ci vorranno parecchi mesi prima che si consumi. Adesso con questa sbarra darò la dimostrazione di due manici contemporaneamente. Ovvero sia quello largo per fare il lat pull down e la sbarra dritta per fare le estensioni per i tricipiti o comunque altri esercizi. Quindi se si vuole rimanere proprio sul semplice, basta semplicemente infilare una sbarra dritta all'interno del moschettone e già così può funzionare. Come vedete si possono fare gli esercizi senza problemi. Però non vi consiglio di lasciarla semplicemente così perché potrebbe slittare, anche se io in realtà la sto utilizzando così per ora. Vi consiglio di mettere due cravate e due fascette al centro della sbarra. In questo modo il moschettore, in caso volesse slittare, non può farlo perché ci sono le cravate. Pensavo di avere un po' di cravate in giro nel garage, però purtroppo non ne avevo. Comunque per farvi capire sono queste qua. Tra l'altro questa è una B-roller anch'esso fatto in casa, però vabbè non divaghiamo. Oppure un altro modo ancora sarebbe quello di utilizzare lo stesso principio di questo manico facendo passare la corda intorno intorno e legandola in questo modo. Però non ve lo consiglio perché sarebbe uno spreco di corda, perché servirebbe una corda abbastanza lunga. Se avete bisogno del triangolo che si utilizza per fare il pull-lay, potete fare semplicemente due di questi manici e unirli allo stesso moschettone. In questo modo avrete un sostituto perfetto del triangolo del pull-lay. Queste qua sono le idee di manici che mi sono venute per il momento. So che magari possono sembrare un po' ovvie, però a mio parere a qualcuno possono comunque risultare utili. Iscrivetevi al canale per vedere come progredisce Lounge Gym nel tempo. Per il momento vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!